Sei uno sportivo? Questo video è per te! Ciao, sono Michele, benvenuto o benvenuta sul mio canale Salute e Benessere News, come ogni domenica, puntuale avremo in nome, questo nuovo video. Oggi parliamo di polline, questo fantastico prodotto dell'alveare e del prezioso lavoro delle api. Produzione siciliana, quali sono le proprietà di questo integratore? Fondamentali come tonificante, riequilibrante, previene stress fisico e mentale, aumenta le difese immunitarie, è ricco di vitamine A, B, C, D, E, contiene tutti gli aminoacidi, proprio per questo è soprattutto indicato per gli sportivi. È anche vero che qualunque persona, qualunque di noi, può assumere questo prodotto in questa modalità, un cucchiaino al giorno, in acqua tiepida, mi raccomando, non acqua fredda, non acqua troppo calda, perché altrimenti andrebbe ad alterare le proprietà del prodotto stesso, ma acqua tiepida. Io ho scelto di assumerlo in questo modo. Il mio vasetto yogurt, un cucchiaino di questo fantastico prodotto che risulta essere molto dolciastro, ha maggior ragione io che sono un golosone. Qui sotto in descrizione trovi il link per l'acquisto. Hai trovato interessante questo video? Lasciami un commento, sentiti libero di lasciare un bel like, di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche. A domenica prossima, ciao!